Hai presente quando ti dicono voglio fare la carbonara però non ho la panna e neanche i piselli? E tu giustamente dici ma che cazzo dici? Ecco, tutto era il brutto su come non si fa la carbonara. Siccome la faccenda è seria lavo pure la cucina. E siccome l'occasione è importante mi sono messa in mutande. Per fare una carbonara di merda ti serve. Siccome non sappiamo cucinare, goccio d'olio e pancetta. E appena soffrigge bene cipolla, uova sbattuta con pepe, a cui aggiungiamo il parmigiano. E se non vuoi parmigiano voglio usare... No, pecorino no. Una cacio ricotta, il taleggio, il gorgonzola, la porfora. Ricetta richiesta da Tore Monaco. Pasta in padella. Appena senti questo rumore vai di uova. Mescoliamo finché l'uovo non si cuoce molto bene. Una bella frittata. Il tocco dello chef. La panna. Quanta è cremosa. Perfetta, una carbonara da manuale. E pronti. A me piace di più questa che la carbonara vera.